Ci colleghiamo con il Faccia a Faccia, ritorna quella faccia di merda di Luca Giurato. Lo Zoo di 105 presenta Faccia a Faccia, il modo migliore per far incazzare qualcuno. Oggi nel Faccia a Faccia abbiamo usato la voce di... Bene, signora senta, io qua ho una scatoletta... Pronto? Bene, signora senta, io qua ho una scatoletta con un tappo azzurro, è fermato da un elastichino, dentro è pieno di... Senta, ma lei con chi crede di parlare? Me lo spiega! Di... Ma cosa vuole? Ah! Ma come è questo stanastro azzurro? Cos'è la birra? Palio, sono in palio, la bellezza di 500.000 cucuzze. Allora, tanto per cominciare, lei come si chiama? Nome e cognome? Che lei mi viene a disturbare, cosa vuole lei da me? Pronto, buongiorno signora... Allora, ricominciamo, buongiorno. Signora è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio, come sta? 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 guardo la trasmissione come faccio a saperlo buongiorno pronto buongiorno signora è Luca Giurato la trasmissione è uno pomeriggio come sta? bene grazie signora senta io qua ho una scatoletta con un tappo azzurro è fermato da un elastichino dentro è pieno di di cosa dentro è pieno di di palio sono in palio la bellezza di 500.000 gugucze dentro è pieno di dentro è pieno di le dispiace indovinare quante ce ne sono 500 dentro è pieno di sì palio sono in palio la bellezza di 500.000 gugucze gugucze sì le dispiace indovinare quante ce ne sono non lo so eh ma lei dica alla gente che deve partecipare è un gioco particolare 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 sì brava 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 pronto buongiorno signora è Luca Giurato la trasmissione è uno pomeriggio come sta? cocobago chi è ma che cazzo è che è bene signora senta io qua ho una scatoletta con un tappo azzurro è fermato da un elastichino dentro è pieno di pieno di pieno di dai ma dove cazzo li troviamo?